Caro automobilista, oggi ti voglio spiegare perché noi ciclisti siamo obbligati, e non vogliamo, siamo obbligati a camminare al centro della careggiata d'asfalto. Non te lo voglio spiegare perché l'immagine che vedrai tra qualche secondo ti farà dare quella risposta perché siamo obbligati a camminare al centro della careggiata. Ecco il perché. Perché ai lati l'asfalto cede e delle volte si formano delle crepe, vedi? Delle crepe in cui la bicicletta si va ad incastrare con le ruote, una volta che la bicicletta si incastra con le ruote e si va per terra. Quindi siamo obbligati a camminare al centro della careggiata. Allora le prossime volte che vedete i ciclisti a camminare nel mezzo delle careggiate, non fate come sempre, gli suonate, accelerate, oppure avete rotto, bip, dovete stare ad una parte, rallentate, guardate il manto stradale, che schifo di manto stradale che c'è, e poi capirete il perché. Buona guida a tutti!